Venerdì la rapina al Penny Market di Modugno, oggi i carabinieri hanno diffuso le immagini del circuito di videosorveglianza di uno dei due esercizi commerciali assaltati che hanno immortalato le fasi del colpo poi sventato dai militari. Nel video si vedono tre persone entrare nell'edificio a volto coperto con le pistole spianate per poi dividersi. Uno dei due tenendo sottotiro i commessi si dirige verso la cassa della macelleria e arraffa il denaro minacciando anche di rubare la borsa di una delle impiegate poi lasciata sul posto. Una volta ripulite le casse i rapinatori hanno tentato la fuga ma sono stati affrontati da un carabiniere fuori servizio e dai suoi colleghi allertati dalla chiamata di un cliente. I due più giovani, un 19enne di Trigiano e un 20enne di Rutigliano, entrambi pregiudicati, si sono arresi subito deponendo la pistola. Il terzo, un 25enne di Trigiano, anche lui già noto alle forze dell'ordine, dopo essersi sbarazzato della pistola. Ha tentato di fuggire a piedi ma è stato fermato dopo un breve inseguimento. Sul retro dell'edificio del Penny Market di Modugno i militari hanno trovato una Volkswagen Polo rubata la sera prima a un giovane operaio di Rutigliano e utilizzata dai rapinatori per giungere sul posto. La refurtiva, pari a circa 700 euro, è stata recuperata e restituita mentre i tre giovani sono stati condotti in carcere. Grazie Grazie a tutti.